Ben ritrovati con un unboxing, oggi coltello professionale perché così siete contenti. Procediamo all'apertura di questo pacchetto che come avete potuto vedere dalla scatola, post italiane ovviamente arriva dall'Italia, questa volta niente viaggio intercontinentale per questa digital flora, trattasi della mimetica attualmente in voga nell'esercito russo, dal 2008 se non sbaglio c'è stata la riforma dell'esercito russo, si stanno molto uniformando rispetto al passato dove ognuno si vestiva un po' alla cazzo di cane con quello che capitava, quello che trovavo nei magazzini, pertanto ecco una digital flora, la mimetica come appunto dicevo più utilizzata attualmente, qui c'è l'OTK a garanzia del fatto che sia un prodotto militare originale non una replica cicciocina o altre provenienze, quindi questo è l'ultimo acquisto in casa criminal, la collezione di mimetiche si aggiorna. Grazie a tutti per la visione, ciao! Grazie a tutti per la visione!